Sono uno dei partner di SZ Architetti, uno studio di architettura e progettazione qui a Firenze che nasce nel 1998. Da sempre lo studio ha lavorato fondamentalmente nel campo del retail e del design interni e oggi seguiamo molti dei principali brand della moda in tutto il mondo. In questi anni il cambiamento più grande è stato quello che il lavoro si è internazionalizzato. Siamo usciti dall'Italia, siamo andati in altri continenti e abbiamo aperto gli altri studio. La sfida è stata grande, ci è voluta energia, soprattutto i primi tempi, però era un passo da compiere in quel momento. Un anno e mezzo fa ci siamo trasferiti in questo studio nuovo. Estra ci ha affidato un consulente aziendale che ha saputo da una parte ascoltare quelle che erano le nostre richieste e dall'altra fornirci delle soluzioni ad hoc ritagliate sulle nostre esigenze. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.